Giovani e bravi è la risposta di una domanda che abbiamo percepito dal mercato, è una risposta moderna nel nostro mondo dell'acconciatura. Giovani e bravi sarà il primo parrucchiere low cost in Italia di qualità dove la gente, i nostri clienti verranno sempre serviti con un servizio al top, saranno coccolate e avranno quella matrice che ha sempre contraddistinto il made in Italy. Giovani e bravi guarda e sfida il futuro con questo progetto. Parte da Taranto speriamo adesso in questo salone pilota e speriamo che al seguito, perché ce ne sono già altri in cantiere, di diventare addirittura, come si dice oggi, virali. Salve, sono Francesco Meri, sono l'amministratore della società Meri SRLS. Siamo qui stasera per dare il via a una nuova avventura di un marchio e di un nome storico nel campo delle acconciature per uomo e abbiamo voluto fare questa unione con il marchio Giovani e bravi per dare un'offerta a più largo respiro e per continuare questa tradizione di qualità e di esperienza nel campo. Vi aspettiamo in via Liguria 76 barra D e nulla. Vi auguro una buona serata a tutti. Buonasera a tutti, sono Bianca Lisa Di Palma, la responsabile di questo nuovo salone che abbiamo inaugurato qui questa sera in via Liguria. Ci affianciamo ad un salone già esistente che si occupava del maschile e noi ci occuperemo del femminile. Ci chiamiamo Giovani e Bravi perché puntiamo tutto sulla gioventù, sulla freschezza, sulla dinamicità. Il nostro marchio nasce proprio da questo, nasce in una scuola in realtà, una scuola di formazione di Ivano Mignogna, la scuola evenese educational. Quest'idea parte proprio lì. Dare largo a questi ragazzi che spesso diciamo non hanno un futuro molto semplice dal punto di vista lavorativo e quindi questa, noi quello che ci proponiamo di fare è di offrire un servizio di qualità, di eccellenza, di professionalità però a prezzi contenuti. Quindi noi parliamo, ci piace parlare di low cost, di qualità e provare per credere. Vi aspettiamo tutti qui in via Liguria 76 barra D. Noi siamo Giovani e Bravi e vi aspettiamo. È doveroso per noi ringraziare questa sera la collaborazione che abbiamo ottenuto dai commercianti di via Liguria che hanno vestito le nostre modelle. Quindi volevo ringraziarli, volevo ringraziare Tutto Moda, Caffiero, Deddy & Son, Liviana, Pullov, Ake, Elisa Lou, Armata di Mare e poi per quanto riguarda gli accessori Max Pelle e Cemaf per quanto riguarda gli occhiali. E ultime ma non ultime le due ragazze che hanno truccato le modelle con noi e sono Francesca e Sara. Grazie mille.